Presidente, io parto sempre dal futuro, come saranno i prossimi 60 anni di Sisi di Baicarra? Significa che io avrò 150 anni? Saranno fantastici come adesso, veramente siamo già in Europa, abbiamo una certa progressione, ma la nostra idea, il nostro progetto, il nostro programma è aprire ufficio in tutta l'Europa, dalla Sicilia con amore, io ho fatto dalla Sicilia con amore verso il continente, verso il resto dell'Italia e adesso dall'Italia verso l'Europa. Diciamo ho iniziato nel 1963, formato la società il 19 ottobre 1963, comprando una macchina usata, Amaranto, targata Paderma 94 582. Il primo ufficio è stato in via Marino Stabile, numero 6A, sbarra A, sì esatto, e dopo due, tre, quattro mesi, se quello che mi ricordo bene, avevamo già 10-15 macchine e dopo un anno ne avevamo 80-90 e dopo più anni ancora 80, oltre 80 mi pare che eravamo su due, dopo due anni intorno a 250 macchine, dopo quattro anni 700 macchine. eravamo, loro dicevano, non io, i number one in Sicilia. Essendo number one non ti puoi fermare solamente in una regione, essendo l'Italia con 21 in regione. Ci siamo detti, anche con molto coraggio e anche moltissima paura, di aprire uffici in tutto il resto dell'Italia. E ci siamo imbarcati in questa grande avventura. E adesso siamo una compagnia che ha 14.000 autovetture, 600 persone che lavorano per la Sicilia Becar, un bello know-how, veramente un bellissimo know-how, e nel 2023, 3 agosto del 2023, siamo stati quotati in borsa.